salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su ninokuni crosswords pensavate che io mi fossi scordato di voi e invece no sto continuando la mia avventura la continuo delle volte anche sul mio canale twitch che ovviamente vi lascio sotto in descrizione e dopo comunque essermi dedicato già un po di tempo effettivamente al gioco aver effettivamente compreso probabilmente le prime meccaniche in generale oggi voglio dare dei piccoli consigli ovviamente per chi vuole seguire i miei consigli sul come effettivamente crescere di esperienza il proprio personaggio ho notato che il farming o per meglio dire per quanto riguarda il farming che si può fare all'interno del gioco può essere letteralmente infinito se si riesce appunto ad organizzarsi bene con il tempo e con le proprie risorse però esistono dei metodi molto più efficaci che vi consentono comunque di ottenere una gran quantità di esperienza in poco tempo ovviamente bisogna anche entrare nella testa del giocatore perché questi sono metodi che comunque possono essere utilizzati per livellare più personaggi in serie o per livellarne uno solo già ad alto livello e renderlo praticamente il personaggio principale detto così tra virgolette io al momento mi sto concentrando sul mio personaggio principale mentre invece tutti gli altri personaggi che ho creato che ho creato sia per dei vari test e anche per un motivo che vi dirò probabilmente in un altro video vi farò vedere appunto oggi quale metodi almeno io sto utilizzando al momento per incrementare la mia esperienza in velocità estremamente rapida è una cosa che si può fare anche in 5 minuti e ricordatevi che questa cosa potrete anzi queste cose che vi andrò ad elencare potrete farle ogni giorno quindi ogni giorno voi avrete una bella quantità di esperienza che potrete accumulare indipendentemente dal vostro giocare o meno e che quindi vi consentiranno di poter livellare e di poter incrementare il vostro livello come prima cosa il consiglio che probabilmente avranno dato in tantissimi avendo iniziato a giocare a questo gioco sono per l'appunto le missioni al volo anzi le soluzioni al volo per così dire perché di queste soluzioni al volo ne potrete effettuare 5 al giorno in maniera totalmente gratuita anche perché come potete vedere otterrete praticamente dalla ricompensa di completamento della missione 2400 di oro quando per completarle ne servono solo 3000 quindi diciamo che per ogni missione completata li andremo praticamente a perdere solo 600 oro cosa che è una cifra veramente veramente minima che può essere tranquillamente spesa senza nessun dubbio infatti come potete notare la ricompensa principale sono una base di esperienza che in questo caso è di 86.210 punti dato che io sono già a livello 46 se non ricordo male e poi ovviamente tutte le varie missioni normali che in questo caso potete vedere qui come missioni normali mi danno lo stesso a montare di quantità di premi o comunque di ricompensa e di esperienza c'è da dire però che praticamente da queste missioni si possono ottenere anche le varianti premium che sono comunque delle missioni più potenti in questo caso quindi con degli obiettivi un po più particolari che non solo hanno dei tassi di ricompensa migliori che in alcuni casi stanno anche ad indicare o comunque stanno anche a consegnare un ticket o due ticket per la summon delle armi quindi potrebbe essere veramente un'occasione ghiotta ma danno appunto anche un bel po' di esperienze in più circa 40-50 mila punti di esperienza di differenza con le missioni normali ovviamente ottenere le missioni premium è un po' più difficile rispetto al normale però anche qui il gioco vive in incontro perché potrete aggiornare le vostre commissioni per soli 1500 gold alla volta però fate attenzione perché l'aggiornare le missioni praticamente raddoppia il suo costo ogni volta che lo sfrutterete quindi se volete approfittarne per un po' potete fare 1500, 3000, poi 6000 e così via perché appunto l'aggiornamento delle commissioni va a raddoppiarsi ogni qualvolta noi le aggiorneremo è una sorta di roulette se vogliamo dirla in termini spiccioli però delle volte potrebbe portarvi delle missioni niente male io al momento non lo sto facendo perché comunque avere 5 missioni da 86.000 esperienza alla volta non è affatto male ovviamente il numero 5 non è assolutamente casuale perché comunque il numero 5 non è casuale e anche perché appunto i vostri personaggi potranno essere un massimo di 5 quindi potrete trasferire o comunque potrete spalmare la vostra esperienza su 5 personaggi diversi facendo fare a ogni personaggio una commissione diversa questo ripeto dipende sempre dal vostro modo se volete appunto avere tutti i personaggi livellati nello stesso modo diciamo quindi distribuire l'esperienza oppure concentrarvi su un unico personaggio e quindi dare l'esperienza all'unico personaggio un altro metodo che invece ho trovato veramente veramente comodo per appunto livellare è l'emporio della gilda quindi se non avete una gilda cercatevene una o createvene una proprio per avere la possibilità di poter accedere all'emporio e quindi ottenere oggetti per il vostro regno ora il mio è già arrivato al livello 5 quindi non è affatto male stiamo crescendo piano piano e quando andrete per l'appunto al vostro emporio ora io già probabilmente le ho consumate eccole qua avrete la possibilità di ottenere dei globi di esperienza giornalieri anche in questo caso come potete vedere al giorno per account 0 su 5 perché anche in questo caso potremmo ottenerne 5 per account da poter distribuire o su ogni personaggio che abbiamo ovviamente all'interno del nostro regno o per meglio dire all'interno del nostro account oppure comprarne tutte e 5 per il nostro personaggio il costo tra l'altro è di solo 10 monete del regno quindi veramente veramente poco è una cosa che comunque potrete fare sicuramente ogni giorno e che potrete sfruttare fino a quando ovviamente lo vorrete man mano che ovviamente il regno poi cresce ci saranno delle ricompense diverse come potete vedere io già ho sbloccato il mecha però a livello 10 purtroppo quindi ancora non è possibile e se ne possono ottenere diversi per il proprio account cosa che ovviamente non vi consiglio perché comunque le montature o comunque le cavalcature in questo caso possono essere condivise dai personaggi quindi ne potete comprare una appena sarà possibile e via ovviamente esiste anche il farming manuale tra virgolette quindi il farming che comunque potrete fare uccidendo i mostri il farming che potete fare uccidendo i mostri però c'è da dire che vi consiglio innanzitutto di cercare un party perché comunque cercare un party vi consente di ottenere dei bonus del party che ovviamente aumentano in base ai vostri componenti quindi fino a 5 componenti per avere un bonus non solo sul drop ma anche sull'esperienza acquisita durante tutto il tempo se avete la possibilità sfruttate le pozioni energizzanti per avere comunque un drop più alto e un'acquisizione di esperienza più alto e se ovviamente vi scoccia stare all'interno del gioco e quindi volete fare altro nel frattempo sfruttate la modalità intelligente sfruttate la modalità intelligente perché grazie a questa appunto avrete la possibilità di poter praticamente farmare in totale autonomia senza avere il bisogno di restare al pc per controllare quello che sta succedendo dato che dopo 8 minuti verrete chiccati dal server per inattività quindi il gioco ha pensato a questo quindi ha pensato al farming passivo ha permesso di mettere la modalità automatica per permettere comunque magari ad altri giocatori di poter accedere al server e non occupare i posti in maniera così diciamo esagerata e quindi devo ammettere che questa è una soluzione che può anche essere comoda infatti io il sistema di farming automatico lo consiglio soprattutto la notte quando voi state andando a letto che comunque dovete andare a letto dovete andarvi a riposare mettete la modalità automatica lo fate farmare di notte e poi l'indomani mattina potrete ottenere l'altra esperienza facendo così potreste crescere il vostro personaggio a livelli spaventosamente alti in veramente poco poco tempo soprattutto dopo aver superato comunque all'incirca il livello 40 che presenta in un qualche modo una sorta di soft cap per quanto riguarda il livellamento tramite l'esperienza del gioco tramite le quest o tramite le sub quest quindi diciamo che è un metodo per poter progredire velocemente senza dipendere troppo dalla storia mentre invece per quanto riguarda il resto del farming le zone che ovviamente vi consiglio sono assolutamente i terreni del caos i terreni del caos non solo per avere una buona possibilità comunque di farming da mostri relativamente alti con il loro livello ma anche perché i mostri che voi andrete a sconfiggere possono dropparvi non solo accessori di fattura più o meno interessante ma vi droppano i progetti delle armi le territi se siete fortunati i progetti per le skill elementali del vostro personaggio le chiavi per il tesoro e poi ovviamente tanti altri oggetti che in base ai nemici ovviamente cambiano quindi ogni nemico dropperà comunque una ricompensa diversa se invece volete continuare a sfruttare le missioni al volo il consiglio che vi posso dare è quello di andare in una qualsiasi località della mappa quella che consiglio io principalmente è la foresta quieta ah qua già hanno fatto il boss peccato non ci sono arrivato dove praticamente o la foresta quieta o comunque una zona giù di lì dove magari sconfiggere i nemici che in questo caso potrete appunto sconfiggere qua vi daranno appunto la possibilità di droppare oggetti più o meno interessanti ma soprattutto vi permetteranno quasi tutti i mostri del gioco in realtà però i mostri più alti di livello probabilmente da quello che ho visto hanno un drop leggermente più alto vi consentiranno di ottenere io forse non ne ho più ah no eccole i frammenti di certificati di soluzioni al volo ogni qualvolta ne collezionerete 100 potrete effettuare una nuova soluzione al volo quindi vuol dire che una volta accumulati 100 di questi frammenti potrete praticamente avere altre esperienze gratis fondamentalmente quindi è un vostro interesse cercare di farmare in questo caso i mostri in base ovviamente a cosa volete farmare quindi o terreno del caos o mostri normali in base ovviamente a quello che vi serve è riuscire fondamentalmente poi a ottenere l'esperienza che più vi aggrada detto questo spero che ovviamente il video possa esservi stato utile fatemi sapere a che livello siete se ci state giocando o come siete combinati perché a me in realtà il gioco sta piacendo parecchio e quindi mi ci sto dedicando un po' più di tempo rispetto magari a quello che dovrei dedicarci normalmente soprattutto in questo periodo estivo che sto più a casa dato il caldo quindi ne approfitto e me la godo finché posso detto ciò io vi ringrazio spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye ciao